Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, vi disturbo solamente un paio di minuti per dirvi due cose, a parte che qualcuno mi ha detto da ieri che siccome il canale si chiama Tiffiamo Juventus dovreste solamente parlare di Juventus, ma questa è una grande puttanata, ma lo stesso ribadisco che del mio canale faccio quel cazzo che voglio e quindi se volete seguirvi bene altrimenti è la strada sapete benissimo qual è, non seguire più il canale e siamo a posto così. Volevo avvertirvi sicuramente che nel pomeriggio di oggi, verso sera credo, pubblicherò un altro video che è un filone, anche perché non mi fermo, non mi fermo assolutamente, non mi fermo su questa cosa qua perché ho avuto parecchie persone che mi stanno dicendo vai avanti, vai avanti, ma non c'era bisogno io vi ringrazio, ma che comunque la mia scelta di mettere la faccia su questo argomento per me è molto grave è sicuramente importante, quindi ci andrò avanti lo stesso, io vi ringrazio del supporto che mi date e tra parentesi credo che nel momento abbastanza breve farò anche una live, devo organizzare abbastanza bene anche perché tanta gente vuole essere partecipe e dire la propria su quello che è successo grazie a tutto il lavoro che sta facendo Superban sicuramente e ci stiamo organizzando però questa sera vado avanti col mio filone, anche perché qualcuno mi ha già criticato per quanto riguarda che tu dovresti comunque comportarti meglio anche perché tu in casa hai un figlio disabile a parte il fatto che rispondo immediatamente perché la disabilità non è una malattia, ribadisco la malattia è una cosa diversa, la disabilità è una cosa sicuramente diversa dalla malattia è una disabilità che comporta certe cose e su questo voglio chiudere il discorso perché se io ho un ragazzo disabile in casa che gestisce la vita tranquillamente senza nessun problema, sono cose mie se io poi mi sono proposto a pubblicarle e ho fatto tra ben diso un video con mio figlio e tanta gente è apprezzato, però non mi invita a dire che dovrei tacere perché io attualmente anche perché ho parlato delle donazioni e di altre cose che sto facendo a livello diciamo di servizi sociali e altre cose per quanto riguarda tante famiglie che hanno difficoltà e quando si parla di soldi non si scherza quindi andrò avanti su questo filone qua, mi raccomando vi aspetto questa sera con un bel video andremo avanti su questa discussione qua perché ci sono tante tante cose, tanti argomenti che stanno andando fuori nelle ultime ore noi ci ragioniamo, della partita di ieri relativamente oramai per il momento io mi sto distaccando ma anche perché ieri sera ho visto un pochettino l'highlight perché non ho avuto tempo di vederla uno schifo purtroppo è così, per il resto avrò tempo per poter parlare anche della Juventus ma al momento voglio battere il ferro quando è ancora caldo ci ragioniamo, buon pranzo a tutti e saluto tante tantissime persone che mi stanno dando supporto per andare avanti su questa cosa sia con me e con tanti altri canali che mi stanno dando una mano e vedo che comunque seguono finalmente questo discorso che è veramente grave alla prossima, ciao a tutti